La Federazione Italiana Pentathlon Moderno presenta la manifestazione promozionale paralimpica Laser Run che si svolgerà domenica a 7 maggio alle ore 14.30 presso il Campo Scuola Comunale di Via Respighi a Pesaro. Prevede una prova di corsa abbinata ad un tiro con pistola a laser. Gli atleti possono svolgere la prova individualmente o con un atleta guida per la disabilità visiva. La prova si svolgerà all'interno dei campionati italiani junior e categoria ragazzi. Per informazioni e iscrizioni iscrivetevi a parapentatlonchiocciolafipm.it entro il 2 maggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.